Come ridurre il rumore sui pavimenti in legno nelle lavatrici LG Strumenti da utilizzare Utilizzare i fermapiedini per i pavimenti in legno e facoltativamente gli estensori Indossare i guanti Accedere alla modalità test di LG, premere il pulsante di avvio pausa due volte, con una pausa in mezzo Questo farà girare la tua lavatrice a velocità media, test utilizzato per determinare i livelli sonori emessi Ricorda che puoi sempre interrompere la modalità di test premendo il pulsante ON-OFF Premere il pulsante di accensione per interrompere la modalità di test Si sentirà la melodia di fine ciclo Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la macchina Ora mostreremo come applicare i fermapiedini L'estensione dei piedini è opzionale e aumenta l'altezza di circa un centimetro Si adatta perfettamente al tappo Ora, inclinare delicatamente la lavatrice su un lato, mentre si fissano i fermi ai piedini Seguire la stessa procedura sull'altro lato Per un maggiore assorbimento del rumore e delle vibrazioni, è possibile ordinare piedini con spessore maggiore Questo è tutto Per ulteriore assistenza, trovi tutte le informazioni sul nostro sito Grazie per la visione